Buon pomeriggio a tutti i telespettatori delle fonti tv. Tony vorrei partire dalla Fed e chiederti un parere. Per quanto concede le parole di Jerome Powell ieri in audizione davanti al Senato, anche oggi sarà seconda giornata davanti al congresso di testimonianza, ha detto che lui sosterrà, anzi appoggerà un rialzo dei tassi di 25 punti base rispetto ai 50 punti basi, a parte apprezzate dal mercato, ma anche proposte da altri membri della Fed con diritto di voto. La situazione delle banche centrali è molto complessa, come bisogna rispondere in questo contesto di alta inflazione e guerra a tutti gli effetti? E' un bruttissimo mestiere fare il banchiere centrale. Mi sa che lo è diventato. Lo è diventato, sì va bene, certo lo è diventato perché abbiamo delle decisioni da prendere, delle decisioni che secondo me Powell è stato bravo a partire già dalla fine dell'estate 2021, ha delineato una strategia con calma, definendola con una tempistica anticipata, ma con una serietà nei fatti. Sì, perché quello che ha detto poi si è verificato, una strategia di quasi, uso quasi, normalizzazione, di tentativo di normalizzazione delle politiche monetarie. Ovvero, perché dico quasi, perché la normalizzazione delle politiche monetarie prevederebbero dei tassi ben più alti di un punto, un punto e mezzo, i due punti, con un'inflazione al 7,5% l'ultimo dato. Però, un'uscita fuori da questo panel in cui ci siamo trovati dopo anche l'era Covid. Questa strategia, tra l'altro di politica verbale, a mio avviso, è stata una strategia anche intelligente perché ha, parlando onestamente, finalmente, perché i primi mesi con l'inflazione, i banchieri centrali, sia Fed, sia BCE, hanno sfiorato il ridicolo perché di fronte a dei dati importanti, a delle motivazioni importanti, continuano a dire che l'inflazione era passeggera, temporanea. Detto questo, però, c'è stato un processo di avviso ai mercati che da prima si sarebbe fatto un tapering, poi questo tapering è diventato molto aggressivo, tant'è che finisce addirittura questo mese, tra 25 giorni non ci sarà più il cui Fed e così, in maniera un po' più ritardata, non nella stessa maniera, anche BCE. E hanno preparato il mercato, da prima hanno parlato anche in maniera importante del tightening, policy tightening, ovvero la possibilità addirittura di ridurre in maniera progressiva nel tempo il bilancio Fed attraversa addirittura una vendita degli asset detenuti nel bilancio, nel mercati secondari. E in più, hanno cominciato a parlare prima di 3, poi 4, 5, 6 rialzi o di rialzi doppi, cioè 0,50 anziché 0,25, cosa che non si fa da tantissimo tempo un 0,50. Non mi ricordo esattamente quando, ma direi 2.000, addirittura 20 anni o 21 anni, però potrei sbagliare. Detto questo, il mercato evidentemente, qualora si ottenga uno sconto di queste misure importanti, quindi si andrà verso 0,25 anziché 0,50, il mercato tira un fiato di sollievo, è come se si abbassasse il tasso di sconto di un quarto di punto, e questa è la psicologia. Tant'è che, in particolare il Nasdaq, sembra, almeno queste due settimane, questi dieci giorni, non influenzato dalla situazione europea, sottolineo europea di geopolitica, perché effettivamente i rapporti, gli interscambi tra Stati Uniti e Russia sono modestissimi e non hanno valore strategico. Sappiamo che gli Stati Uniti sono ricchi di petrolio, sono ricchi di natural gas, non hanno prodotti da esportare, esportano pochissimi in assoluto gli Stati Uniti, tanto meno nell'Unione Sovietica e grandi acquirenti degli russi. In America ce ne sono stati pochi. Cosa differente invece è in Europa e lo stiamo vedendo in maniera clamorosa dall'andamento degli indici. Finisco con le banche centrali. Le banche centrali hanno diminuito il tasso di interesse, quindi non si arriverà più. Abbiamo detto 20 giorni fa, eravamo convinti di vedere a fine marzo la Fed con mezzo punto, questo mezzo punto non ci può essere. Un quarto di punto. Il mio pensiero è che è anche una scelta giusta per questo motivo, perché a parte che il natural gas americano, il nat gas non è influenzato più di tanto da questa crisi europea. Noi non abbiamo questa commodity del nat gas, non è globale come può essere il petrolio o come può essere il grano, dove a Chicago si definisce il prezzo praticamente di tutto il mondo. O il petrolio, noi sappiamo che il WTI o il Brent sostanzialmente costano uguali a un prezzo uguale. Per quello che arrivare al natural gas c'è una differenza spaventosa, perché noi abbiamo una borsa olandese, una Dutch TT natural gas. Il TTF, esatto. Mi ero scordato la terza lettera dell'acronimo, che oggi l'ho visto io, il future stamattina è andato addirittura a 200. Era una cosa che qualche mese fa ballava tra 25 e 20. Se noi andiamo a vedere invece il nat gas, quello che conosciamo di più, negoziato nel Mimex, effettivamente i prezzi si sono aumentati, ma non in questa maniera. Quindi di fronte a aumenti di prezzi come il petrolio o eventualmente il nat gas, qualche materia prima, eccetera, se parliamo dell'America, diciamo che anche un aumento del tasso di sconto in maniera aggressiva non servirebbe a niente, così come con la BCE. Perché se il nat gas non c'è in Europa o in America, poco conta l'aumento del tasso di interesse. Mentre per quello che riguarda i beni di consumo tradizionali, che sarebbero trainati dalla domanda normale dei consumatori, questo tipo di crisi probabilmente inculcherà nella psiche dei consumatori un rallentamento della propria domanda. E quindi automaticamente il rallentamento è conciliante con una politica monetaria, si concilia bene con una politica monetaria meno aggressiva. Quindi giusto per capirci, in Europa in effetti la situazione è molto simile agli Stati Uniti in termini di inflazione, cioè non molto simile però si sta avvicinando, anche se purtroppo forse, dico forse perché è un po' controverso questo discorso, non incrementano gli stipendi, però se incrementassero contribuirebbero alle pressioni inflazionistiche. Aumentano invece i costi in termini di materie prime notevolmente nelle ultime due giornate, però la BCE, come hai ben sottolineato, non ha tanti margini di manovra, considerando il conflitto in Ucraina a differenza della Fed? La mia sensazione, non ho dei dati ufficiali, è che l'inflazione in Europa sia, anche ieri abbiamo avuto la Germania a 5%, sia in questo momento per il fatto, materie prime, gas, petrolio, eccetera, difficilmente debellabile da parte di BCE, è difficilissimo che la possa fare, quindi siccome vivremo un momento, purtroppo bisogna anticiparle queste cose di emozione, di diminuzione anche dell'entusiasmo, diciamo un nuovo Covid dal punto di vista psicologico, in Europa, io immagino, immagino, sono cose che ci sarà una diminuzione, un aumento del risparmio, è una diminuzione anche della domanda di beni generali, di consumi e quindi un rallentamento importantissimo del prodotto interno all'orto. Questa è la mia view, causa questa geopolitica spaventosa. E quindi quando cala la domanda aggregata, il fatto di inflazione dovrebbe calmerarsi, se non che per quello che riguarda l'energia, purtroppo anche se cala la domanda del gas, ci sono dei motivi di colli di bottiglia di poco materiale, bloccati anche per la questione russa, che l'ABC può fare quello che vuole, ma non riesce a combattere. Ecco, come detto, una situazione molto delicata, forse il lavoro peggiore, essere banchiere centrale, dopo tutto ciò che ci siamo detti, Tony, che cosa significa ciò per l'equity, come posizionarsi, ovviamente facciamo come sempre la divisione tra gli Stati Uniti e l'Europa, anche perché la performance è un po' diversa. Allora, purtroppo qui bisognerebbe sapere, io sono sempre un po', leggo, sento tutti i notiziari possibili, e leggo un po' tutte le opinioni, e nessuno, cioè le opinioni, la bellezza tra virgolette di questi momenti e che nessuno ha un'idea identica all'altro, cioè ogni analista dà la sua idea e non c'è chi dice, ad esempio, fino a due ore fa, prima dei colloqui, sappiamo che si sono incontrati in Bielorussia, a Brest, a poco tempo, delle delegazioni, e lo Standard & Poor's a un certo punto è schizzato a 4.420 a lei, il Nasdaq è andato addirittura più 1 e abbandante per cento, è arrivato quasi a 14.350, l'ho visto, e c'era un entusiasmo sullo Standard & Poor's, che ripeto, l'ho visto poco tempo fa, 4.420, che corrisponde a dei valori ben superiori a quelli che abbiamo visto a fine gennaio, quindi l'America, però l'America non è tanto toccata. Ok, tu mi hai fatto una domanda precisa, però evidentemente se andiamo a fare dei raffronti, borse europee molto brutte. Adesso, questo sta entrando nei prezzi, nel senso che in questo momento bisogna sapere come andrà a finire, non ne ho idea, non ne ho idea e forse non lo sa nessuno, l'Europa sta scontando questo dualismo, è veramente una doppia velocità, o una doppia decelerazione. Non vorrei che lo Standard & Poor's, almeno il Nasdaq, fa storia a sé, l'abbiamo visto anche durante il Covid, il Nasdaq a un certo punto, anche durante i periodi peggiori, si è messo a correre, perché è un'altra interpretazione, è un mercato con altre interpretazioni e altre logiche. Lo Standard & Poor's è vero che l'America, abbiamo detto che è fuori un pochino da questo, è penalizzata molto di meno, però ricordiamoci che siamo in un mercato globale e quindi un'Europa molto in recessione, diciamo anche questa parola, in recessione perché, l'ho detto prima, al di fuori di questi dati che possono uscire ancora per qualche giorno, questa guerra siamo solo al settimo giorno, è partita giovedì scorso, il settimo giorno e qualche ora. E quindi gli analisti preferiscono vedere dei dati prima di parlare, a noi ci piace anticiparli, perché siamo in borsa, io ero convinto anche io, il giovedì scorso, che potesse durare molto meno, infatti ho invitato anche a snobbare questo tipo di timore e il mercato mi ha dato per i primi due giorni ragione, perché il Nasdaq è andato da 13.000 a 14.200 punti e lo Standard & Poor's ha fatto 4.100, giovedì scorso è arrivato fino a 4.420. Però in questo momento l'impasse è sempre maggiore e quindi ogni giorno che passa ci sono effetti negativi sull'economia di tutta l'Europa, secondo me. di tutta l'Europa, perché è vero che la Russia è isolata, vogliamo dire quello che si vuole, ma la Russia è un paese che per la Germania è importantissimo, per l'Italia è importantissimo, ripeto, per l'Italia è l'undicesimo paese al mondo per importanza per noi come export, è il settimo per le importazioni, quindi parliamo di uno dei primi paesi al mondo e questo per l'Europa è tutto molto importante. Quindi la durata di questo conflitto potrebbe deteriorare il sentimento anche dei consumatori, delle persone al di fuori del prezzo del natural gas, del prezzo del petrolio, eccetera, e rallentare in maniera importante la domanda di beni, consumi e servizi, con un'inflazione obbligata, perché le materie prime non è che stanno andando forte perché c'è domanda, stanno impazzendo tutti che vogliono il petrolio, no, purtroppo sta andando perché ci sono i motivi che la Russia può venderlo ai paesi arabi, non so se lei ha sentito questa notizia, ma la Russia sta vendendo qualcosa ai paesi arabi, pensate un po'. E quindi c'è un contesto evidentemente fosco che si riflette nei prezzi attuali, però che non invita ancora a delle iniziative se non di carattere di portafoglio volte all'accumulazione in questi periodi qui di titoli da mantenere portafogli. Intanto ricordo, prima di farti l'ultima domanda, ricordo che comunque questo ribasso in termini di prezzo del petrolio dell'1% non è ovviamente un ribasso troppo importante, però ci sono alcune indiscrezioni che l'Iran potrebbe tornare sul mercato petrolifero, il che naturalmente calmerà senza alcun dubbio i prezzi perché l'Iran per il momento non è sul mercato ed è un contributo piuttosto importante. Quindi sottolineiamo che rispetto alla Russia ci sono anche altre opzioni in termini di petrolio, gas naturale è già un'altra cosa. Ultimissima domanda, Tony, perché ci scrivono i nostri amici da casa che cosa fare con i nostri titoli del comparto energetico, scusate, del comparto delle utility, Sterna, A2A e naturalmente Enel. Sì, avviso proprio tre secondi che è vero quel fatto dell'Iran, il mercato ha premiato questa idea qui con 5-6 dollari di storno, però siamo sempre a 110 di VTI, quindi per carità. Io dico questo, tutti questi utilities, in particolare Enel che conosciamo tutti, Terna e anche Italgas mi sembra, sono penalizzati da questo eccesso di prezzo del gas europeo, quello quotato ad Amsterdam. E questo è perché, perché già in due paesi europei, come la Spagna con Sanchez e la Francia con Macron, hanno chiesto alle grandi società elettriche, Desa e EDF, di collaborare a non fare aumentare la bolletta. È chiaro che la società francese, che mi sembra che sia oltre l'80% del tesoro francese, quindi pubblico. Enel ne ha molto meno di percentuale, però il problema è quello, secondo me anche riuscirà Enel a incassare tutte le sue bollette, che sono veramente enormi, già il mese scorso, chissà quelle che ci saranno anche nel prossimo mese. E questo è il grande problema. Il mercato sta scontando delle paure, se uno va a fare i conti di potenziali perdite di Enel rispetto a quanto sta perdendo di capitalizzazione, la velocità di discesa di Enel è esagerata, è esagerata, però tutto dipende da quanto dura sto strazio. Se sto strazio dovesse prolungarsi per altre 4-5 settimane, anche un titolo come Enel potrebbe scendere ulteriormente. Se invece dovesse in qualche modo finire tutto, questi sono prezzi di affari. Ottimo, quindi non vendere ma aspettare. Dipende dall'e-view che uno ha, perché se poi, sai, io vengo qui, sembra che dura tre giorni, o che non attacchino per niente, e ogni volta succedono delle cose più brutte, e va di conseguenza. Grazie mille, Toni Scioli Puviani, tre di indipendente, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, alla prossima. Grazie a tutti. Ciao Alessandro.